Salve ragazzi e cari amici del web, sono Andrea Bruno. Purtroppo in Italia, come già avrete tutti capito, constatato, non vige uno stato di democrazia. Vi è una dittatura morbida e silenziosa e ora vogliono anche sovvertire la Costituzione in modo di legittimare la dittatura preesistente. Ecco, noi con l'ausilio dei nostri tecnici di laboratorio abbiamo messo a punto dei robot, questa è una breve anteprima e saranno loro a ripristinare lo stato di democrazia in Italia, annientando gli impostori della politica, cacciando via dalle istituzioni tutti i vari impostori rappresentanti delle lobby che non hanno nessuna legittimazione a rappresentare gli italiani. Hanno inventato un sistema elettorale che non è assolutamente democratico, i partiti mettono loro al loro interno, posizionano le loro pedine, tutto viene già giocato, anticipato a tavolino prima delle elezioni, i posti sono già assegnati e il cittadino è tenuto con un voto rappresentativo a dare fiducia obbligatoriamente non a chi vorrebbe lui ma già a delle persone per scelta. Ecco, noi diciamo no a questo sistema e a dirlo non sarà la nostra voce ma saranno i nostri robot. Sono una volta messi in azione, sono furiosi, agiscono, non utilizzano delle armi perché non sono dei robot guerra fondai, però hanno una forza incredibile, con quelle mani lì potrebbero tranquillamente staccare la testa di una persona e mangiarsela. Ok ragazzi, ci sentiamo alla prossima!